Spaghetti senza glutine ai 3 pomodori Cuociamo gli spaghetti senza glutine in abbondante acqua salata In un soté versiamo olio ex vergine d'oliva e rosoliamo scalogno e aglio tritati Aggiungiamo i pomodori pelati leggermente spezzettati e i pomodorini datterini gialli interi in succo Lasciamo cuocere per qualche minuto Saliamo e pepiamo Infine i dorati e una foglia di basilico fresco Scoliamo gli spaghetti e li saltiamo con il condimento preparato Completiamo con dadolata di verdure, olio ex vergine d'oliva, basilico fresco Il piatto è pronto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.